Cari amici, anche quest'anno voglio mandarvi questo video per invitarvi a partecipare al 107esimo congresso SIOT che si svolgerà a Roma dal 29 al 31 ottobre. Sarà un congresso denso di avvenimenti importanti con numerosi main topics e all'interno di queste vorrei segnalare l'importanza dello studio dell'intelligenza artificiale e dei dati e dell'impatto che avrà sul nostro lavoro. Ci saranno poi numerosi spazi dedicati ai giovani e alla loro formazione e a tutti gli eventi che chiaramente devono supportarli nella loro formazione. Voglio inoltre segnalarvi tre momenti istituzionali che sono molto importanti. Il 30 ci sarà lo spazio SIOTSafe nella quale verranno sviluppate tutte le problematiche inerenti al futuro dell'ortopedico e ciò che lo aspetta dopo la specialità, quindi gli adempimenti legislativi e assicurativi. E poi il 31 ci sarà l'assemblea generale e la tavola rotonda istituzionale che tratterà del futuro dell'ortopedico alla luce delle recenti normative del decreto Calabria e dell'inserimento degli specializzanti nel coprire i buchi del Servizio Sanitario Nazionale, quale sarà l'impatto che questo può avere nella loro formazione. Quindi vi aspetto numerosi al Congresso e arrivederci a presto a Roma.